Lunedì 29 agosto è il giorno dei calendari del campionato di promozione. Alle ore 18 al San Severino, Parcotel e le Erpine, che saranno 7, sono state inserite nel girone C a 16 squadre. Le affronteranno team provenienti dall'Interland Napoletano e Sannita. A Bellinum, Baiano, Bellizzi, Città di Avellino, Gesualdo, Polisportiva Bisaccese e Polisportiva Savenianese vanno a caccia del successo e magari tra queste potrebbe uscire l'erede del carotenuto Mugnano, che nella passata stagione ha trionfato dopo un bel duello con il Solofra. Sicuramente tra le compagini che puntano ad un torneo di vertice ci sarà il Bellizzi di mister Quaglia Alberto Belfiore, che poche ore fa ha ufficializzato l'arrivo dell'ex centrocampista del Solofra, Nige. Nella passata stagione è stato uno dei punti fermi per mister Fiume. E poi ci saranno le prime volte della Savenianese di Della Marra, che in questo precampionato ha avuto a modo di testare il calore della comunità ufitana. Intanto, nelle scorse ore, il club Biancazzurro ha ingaggiato due Andre Classe 2005. Si trattano del portiere Francesco Purro e dell'esterno Luca Moccia.